Comunica Starweb è un'applicazione web accessibile da Internet che consente di compilare le pratiche di comunica e di spedirle tramite un unico invio telematico al registro imprese. Questo permette di assolvere rapidamente tutti gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assicurativi necessari per avviare, modificare ed eventualmente cessare un'attività di impresa. Dopo l'attivazione, attraverso l'apposita funzione, è possibile memorizzare per ogni utente, le credenziali rilasciate dal registro imprese e, a partire da quel momento, solo se si è posizionate all'interno di un'azienda. Si accede a Comunica Starweb, tramite l'apposito pulsante. Ipotizzando ad esempio, l'iscrizione di una società, l'operazione preliminare, è la corretta compilazione dei dati anagrafici e societari, all'interno del programma. A questo punto, cliccando sull'apposito pulsante, i dati precedentemente inseriti, sono disponibili per essere importati in Comunica Starweb, tramite il doppio clic del mouse. Completata la pratica, è possibile firmarla in modalità online, oppure, in modalità offline.